Il Covid è senza dubbio una rottura di scatole. Ho dato inizio alle pillole per tenerti compagnia durante la quarantena. Ma ragazzi, quando è troppo, è troppo. Le sei parole che andiamo a vedere oggi sono queste, che sfogliando una rubrica, oggi che la quarantena è finita, continuo a tenerti compagnia e a darti suggerimenti sulla dizione e sulla comunicazione. Bene, questa schifezza nella lingua italiana non esiste. Le domande a cui rispondere, le vostre splendide frasi, entro sera tornerà Enzo. Fatti almeno trovare con una faccia contenta. Io ragazzi voglio il nome del vostro pusher. Ogni buon conto si dice secchio. Ogni settimana un video, con tanti riferimenti al cinema, al teatro, alla vita di tutti i giorni. Non è che l'accento regionale sia il male assoluto. Ecco l'impegnativa per le tue pillole. Ogni giovedì alle 15 a stomaco pieno o vuoto come preferisci. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.